libro quattordicesimo dell'iliade di solito definito l'inganno a zeus e certamente il tema centrale proprio questo uno stratagemma divino dialettico di una dialettica interna alle potenze divine con cui era capovolge temporaneamente la situazione il libro inizia il libro quattordicesimo inizia tornando sull'immagine di nestore si apre con questa bella figura di eroe e guerriero il più anziano fra gli achei il più saggio simile in molte cose nell'oratorio nella saggezza ad odisseo ma figura più limpida più serena più semplice sembra anche lui sopravvissuto a un tempo più antico e certamente la nestore l'anello di congiunzione fra il ciclo eroico precedente la generazione eroica precedente che quella dell'impresa di argo del vello d'oro della caccia al cinghiale calidogno e l'ultima grande ciclo eroico la guerra di troia nestore viene ripreso con somma ma maestria da grande regista consumato di omeo dove l'avevamo lasciato nel libro nel libro alla fine del libro undicesimo quando assisteva macarone che era stato appena medicato quindi il medico che è stato medicato macarone così prezioso figlio di oscepio per gli achei e patro quello che a sua volta medica un altro un altro eroe quindi essendo un guerriero più anziano essendo tutti feriti capi achei nestore è ancora nelle tende che si riposa e attende sovrintende questa funzione di guarigione di medicamento così importante mentre la battaglia fuori in furia quindi abbiamo un accenno ennesimo tanto è importante il tema evidentemente per romero per gli antichi come abbiamo abbiamo più volte spiegato il tema del muro il muro è caduto il teicos è caduto sul quale noi a che abbiamo avuto la colpa sottointeso di riporre fiducia così impariamo a fidarci di pietre tronchi che non del nostro valore e agamennone tutti sono feriti quindi non sono ancora tornati alla battaglia sono presi una pausa agamennone anche lui per l'ennesima volta è un re paradossale questo sembra sempre il primo voler dire torniamocene a casa ma sappiamo che questo è sempre un test un test sirenico enigmatico con cui agamennone prova i cuori dei suoi re dei suoi principi per vedere cosa pensano per provocarli a dire quello che veramente intendono infatti odisseo subito sgrida agamennone cosa dici non dobbiamo assolutamente allontanarci con le navi idea che non sarebbe stata sciocca militarmente se fosse stata fatta prima non puoi certamente allontanarti fare una ritirata strategica tattica temporanea con le navi durante una battaglia in corso ma agamennone sembra veggente qui perché anticipa quello che altri mitografi racconteranno alla fine nell'evento conclusivo trionfale della vittoria che quello dell'inganno del cavallo perché in quel momento gli archei faranno proprio così dopo dieci anni rimetteranno in acqua le mille navi che si allontaneranno in un'insegnatura di vicina fingendo di essere tornati in ellade per poi rientrare quando l'inganno del cavallo sarà andato a segno quindi odisseo reagisce in modo irroso come istintivo ardente il suo carattere oltre che saggio e quindi la proposta la proposta è molto semplice quella di diomede che anche diomede dimostra sempre grande tenacia e senso pratico e saggezza come similmente odisseo anche se odisseo più più affinato più contorto più profondo nella sua astuzia però lo stesso diomede qui conserva sangue freddo dice semplicemente sebbene feriti ritorniamo in battaglia cosa dobbiamo fare l'unica soluzione questa non certo pensare alla fuga ma noi che siamo i capi se ritorneremo fra i nostri daremo ulteriormente vigore al nostro al nostro esercito così accade così accade e abbiamo poi questa bella scena molto epica cioè grandiosa di questo poseidone che si mette alla testa di tutti gli achei li guida a un contrattacco che inizia avere successo è un poseidone che urla urla come 9.000 guerrieri come se 9.000 guerrieri urlassero contemporaneamente quindi l'urlo è un segno importante nella battaglia compare per o meno sia presso gli achei che usato dai troiani perché è un qualcosa che non solo mostra il valore e vedremo poi l'urla che farà l'urla che farà il triplice urla che farà l'achille per spaventare i troiani fra poco nei prossimi libri ma è anche quindi non solo un segno di valore l'urlo ma anche appunto un uno strumento di attacco psicologico un qualcosa che serve a destabilizzare il nemico a dare coraggio a se stesso e incutere paura nel nemico quindi di fronte a questo urlo ancora più grande tanto che un urlo di divinità però poseidone si smaschera perché da una parte guida lui un attacco un contrattacco che anche fisico oltre che psicologico perché nello stesso tempo si muove il mare e invade la spiaggia quindi gli achei sono quasi costretti ad avanzare se no rimanebbero travolti anche loro e quindi si vede tutto l'aspetto più furioso più legato agli elementi proprio di poseidone che è il dio dei terremoti dei maremoti dei cataclismi delle catastrofi quindi attacca sia con la forza diretta del mare che mettendosi alla guida e degli achei però questo sua eccessiva vehemenza molto utile in battaglia lo scopre nel senso che questo grido trafigge così tanto l'etere si mostra così differente da un grido pur potente di un esercito che zeus se ne accorge zeus se ne accorge come se ne accorge era e mostra il suo cuore stugheros cioè terribile quindi zeus si adira perché capisce che gli dei in questo caso poseidone non hanno rispettato il suo volere e sono entrati nella battaglia propria cosa quello che lui aveva escluso per tutti gli dei su poseidone ricordiamo che ad esempio delle troiane di euripide lui si allerà con atena che passerà dalla parte dei troiani per l'offesa al palladio l'offesa a cassandra e lui che ha aiutato la flotta degli achei nei nostri nei ritorni degli eroi in ellade sarà quello invece che perseguiterà molti eroi non faranno ritorno odisseo sarà perseguitato da poseidone per dieci anni altrettanti quanto la guerra di troia menelao tornerà in ritardo con la flotta tutta distrutta per cui solo di omede nesto le torneranno sani e salvi senza problemi questo interessante questo cambio di schieramento del volubile e enigmatico poseidone divinità molto legata anche a creta colui che abbraccia l'isola della dea creta quindi zeus si adira ma qua interviene con grande intelligenza e saggezza era perché ricordiamo che era è sull'olimpo zeus è sull'ida per cui prima che zeus ritorni a intervenire potentemente nella battaglia a favore dei troiani era interviene in modo estremamente astuto e intelligente anticipando per calmare l'ira di zeus e distrarlo distrarlo dalla battaglia come può distrarlo come può una donna in questo caso era svela un aspetto afroditico si riveste di ambrosia di olio si mette gli orecchini di perla un velo splendente leucos candido splendido un velo luminoso si fa bella per zeus ma soprattutto quale elemento decisivo si fa imprestare da afrodite la sua fascia policroma il suo imanta poichilon scusate poichilon quindi è una fascia una striscia ma il termine indica un po anche la fune la sferza quindi è un talismano un oggetto rituale di afrodite variopinta come certe volte viene descritta l'aurora il cielo l'arcobaleno da parte dei poeti dei mitografi di omero e questa striscia variopinta al potere di ingannare dolos di ingannare nus la mente e quindi è un incantamento è un rito magico un incantamento con questa così agghindata con questa striscia di variopinta che si fa dare va da zeus e se la fa dare da afrodite con un inganno quindi a sua volta era riesce a sangue freddo a ingannare colei che maestra dell'inganno afrodite della passione dell'eros che ha sempre una componente di inganno per gli antichi mitografi e perché perché dice naturalmente non dice la verità perché afrodite dalla parte dei troiani quindi non darebbe mai la sua fascia variopinta se sapesse che andasse a danno dei troiani dice che gli serve per portare pace fra per favorire una ierogamia un incontro erotico fra oceano e teti teti è la stessa nome della madre di ulisse ed è una antenata della madre di ulisse una dea oceanica quindi va vuole andare ai confini del mondo con questa fascia afroditica e perché non ci va direttamente afrodite perché era lo dice lei è legata a oceano e teti perché loro l'allevarono l'allevarono da piccola afrodite nella sua ingenuità perché una divinità ancestrale semplice ingenua ci crede gli dona la fascia la stessa cosa dice a zeus molto intelligentemente va a salutarlo dicendo vado da oceano e teti ma di fronte a era così agghindate con questa fascia incantatrice zeus non resiste per cui dice subito uniamoci uniamoci passionalmente ed era indica anche un talamo che è presente sull'ida quindi questo ci conferma quello che ho sempre detto cioè che il culto dell'ida è un culto è un luogo di culti afroditici di oggi diremmo magia erotica di culti incruenti di cui pari del custode e lena la nuova sacerdotessa tant'è che appunto era indica zeus questo talamo fatto da efesto quindi a sua volta oggetto sacro presente sull'ida e questo è un rito chiaramente di erogamia fatto direttamente dagli stessi dagli stessi dei cosa fa zeus fa scendere una nebbia luminosa che quindi cela il mistero di questo rito c'è semplicemente l'unione fra lui e la sua sposa era in questo modo era aggiunto perfettamente il suo obiettivo e distratto dalla battaglia non può più aiutare i troiani i quali ora attaccano con la potenza delle onde e con la potenza di poseidone non solo era muove anche il sonno questa divinità che poi presso altri mitografi in realtà è un attributo di ermes il sonno qui viene visto come un dio minore una divinità autonoma e quindi dopo l'unione amorosa il sonno viene convinto da era con la promessa di sposare pasita e una grazia di cui lui innamorato e in questo era mostra la sagaccia ingannatrice di chi possiede le potenze dell'eros la potenza afroditica perché coglie sonno che ha paura di mettersi contro zeus nel suo punto debole intuendo evidentemente grazie a questa fascia afroditica che sonno innamorato di pasita gli propone la propone in sposa e così lo convince poi a far addormentare zeus dopo l'unione con era sonno appena ha compiuto la sua opera va ad avvisare poseidone e poseidone quindi attacca con ancora più forza con ancora più forza gli achei quindi il piano di era è perfettamente riuscito questo dimostra la maggiore carattere più callido più astuto delle divinità femminili era atena rispetto le divinità più antiche più antiche come poseidone che rozzo si fa scoprire come afrodite che una divinità ingenua poseidone viene descritto come lo scuoti terra oppure colui che la chioma color ciano c'è il color viola cioè il colore dell'oceano viene citata la potenza di borea un vento violento un vento forte e ettore inizia ad avere la peggio il fatto che ettore sia colpito sia colpito cada fra la polvere vomiti sangue è proprio il segno che adesso gli achei sono più forti per cui ha colpito il guerriero troiano più potente che ettore che non ha adesso più l'aiuto in questo momento di zeus tanto che ettore viene portato presso l'oxanto che è un fiume che originalmente figlio di zeus e rinfrescato con con l'acqua quindi questo è molto interessante proprio realismo l'adesione areale totale di di omero che non è in contrasto con tutti gli altri aspetti che sono nel grande poema perché l'emica l'epica è un linguaggio inclusivo universale che assorbe in sé tutti gli altri linguaggi quindi vediamo un ettore colpito al petto che ha tutti profili clinici tipici di un grosso trauma quindi lo svenimento il vedere tutto nero il vomitare sangue l'essere storditi quindi ettore viene improvvisamente abbandonato da questo successo da questo favore c'è poi in particolare crudo di il lioneo questo troiano che viene decapitato e la testa conficcata su una su una lancia come un papaveo questo era quindi un particolare particolarmente un dettaglio crudo della battaglia che appartiene al retaggio più antico quasi sciamanico perché poi si attaccava il nemico mostrando il capo reciso per spaventare di più il nemico ecco quindi si conclude questa battaglia che sembra non aver fine e non è ancora finita infatti continuerà nel libro quindicesimo con questa inversione di rotta inversione di baricentro gli acchei stanno vincendo e per l'intervento di poseidone duplice psicologico e fisico marino e per l'inganno di era che ha neutralizzato distratto interrotto questo flusso di energia che zeus mandava ettore tramite ettore a tutti i troiani ok ok sì Grazie a tutti